Buonasera a tutti ragazzi, amici del canale di Youtube e a tutti appassionati di campane come me. Stasera ci troviamo alla chiesa di San Nicolò a Sessina di Lanzano. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo il suonare per il salve il punto. Di fronte a un po' lo faccio vedere, questo è il campanone, questa è la mezzana, non c'è la mezzana, non c'è la piccola codicella. Adesso ascolteremo il battere sul campanone, fammelo dire, Ave Maria di Lude. Quindi a presto, Nardoardo Campanagliato, buon ascoltore a tutti. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.